Con la prolusione svoltasi nell'aula magna del seminario arcivescovile, lo scorso mercoledì ha preso ufficialmente il via l'anno accademico numero 20 della Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna. Al centro del dibattito l'intelligenza artificiale fra rischi e potenzialità, un tema del quale hanno dibattuto Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, già ministro dell'Università, Francesco Ubertini, presidente del Consorzio Interuniversitario Cineca e Laura Palazzani, membro del Comitato Internazionale di Bioetica all'UNESCO. L'anno accademico è stato inaugurato con l'intervento del gran cancelliere della Facoltà, il Cardinale Matteo Zuppi. Il dibattito, integramente disponibile sul canale YouTube della Facoltà, è stato moderato dal direttore dell'Avvenire Marco Girardo. È un'innovazione clamorosa, fa compiere un salto qualitativo incredibile al rapporto degli uomini con le macchine e come tutte le grandi innovazioni, ha delle grandi opportunità di utilizzo a servizio se ben governata e dei grandi rischi anche in questo caso se non ben governata come intelligenza artificiale. E questa sera tra l'altro siamo qui a dibattere esattamente di rischi e opportunità per superare in qualche modo anche il dibattito che da anni è in corso su tutte le innovazioni che riguardano anche il mondo della comunicazione fra gli apocalittici e gli integrati. Vorrei sottolineare il ruolo del pubblico nel mondo dell'intelligenza artificiale richiamando un intervento che ha fatto recentemente la Presidente von der Leyen al Summit di Londra sull'intelligenza artificiale che c'è stato i primi di novembre. E in particolare l'importanza di investimenti pubblici in ricerca ma anche nelle infrastrutture di supercalcolo come quelle che gestisce Cineca in Italia e per l'Europa perché lavorare nel campo dell'intelligenza artificiale oggi significa anche accedere a grandi calcolatori che sono molto costosi. E dicevo l'importanza del ruolo del pubblico perché il pubblico garantisce una ricerca indipendente in una tecnologia tanto strategica bene gli investimenti nei privati ma altrettanto deve esserci un'azione di approfondimento, di studio, di sviluppo, di evidenzazione di pregi e difetti che venga dal pubblico. Sicuramente la parte di regolazione è fondamentale, c'è un dibattito molto forte in questo momento in Europa con posizioni abbastanza diverse fra chi dice che devono essere le imprese ad autoregolarsi e quindi decidere i confini dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei loro prodotti e invece chi pensa che debbano esserci delle regole sovranazionali anche a livello internazionale o comunque almeno a livello di Unione Europea in cui si definiscono i confini dell'utilizzo e si cerca di raggiungere quella che si chiama ethics by design, cioè progettare in maniera intrinsecamente etica. Ovviamente dal dirlo al farlo poi scientificamente non è così semplice definire fin dal design come questo utilizzo avviene. L'intelligenza artificiale è già una realtà velocissima come abbiamo ascoltato con degli investimenti straordinari, con dei problemi quindi anche di chi controlla e quindi anche se vogliamo proprio di democrazia. è un tema in cui siamo interrogati direttamente non solo come soggetti che possono essere protagonisti o oggetti dell'intelligenza artificiale e poi per l'etica. Gli stessi detentori o creatori dell'intelligenza artificiale hanno bisogno dell'etica perché si accolgono che può diventare distruttiva, non possono controllare le conseguenze. Quindi c'è bisogno di dare gli algoritmi che sono neutrali, che cosa ci mettiamo dentro può dare un significato, un altro, delle conseguenze a un'altra. Grazie. Grazie.